seconda festa dell'USB noi non dimentichiamo sabato 29 e domenica 30 agosto a Talsano in piazza Loiucco siamo con il segretario provinciale di Taranto dell'USB Francesco Rizzo dunque Rizzo noi non dimentichiamo quei lavoratori che purtroppo hanno pagato con la propria vita il prezzo della mancata sicurezza sul lavoro il leitmotiv di questa seconda festa dell'USB sì e questa è la seconda edizione della festa che è nata due anni fa è nata esattamente per le ragioni che ripetiva tu prima cioè il fatto che noi non dimentichiamo i colleghi che sono andati via non dimentichiamo le famiglie dei colleghi che hanno purtroppo subito una tragedia e quindi noi li ricordiamo con il sorriso cioè questa festa è dedicata a loro per non far calare l'attenzione su quello che è successo ed è una festa che poi alla fine all'interno c'ha tutta una serie di momenti che vanno dal dibattito politico a cui parteciperà tra l'altro oltre la USB il Amedeo Zaccaria il papà di Francesco Zaccaria parteciperà il professor Marescotti il governatore della Puglia Michele Emiliano ci sarà Giorgio Cremanschi e ci sarà Rosa Lamato l'euro parlamentare dei 5 stelle quindi un dibattito aperto sulla sicurezza sul lavoro e sulle tragedie che purtroppo continuano malgrado tutto ad investire le famiglie e poi nel secondo giorno il 30 il momento ludico diciamo così con la banda Bassotti perché si vuole ricordare chi non c'è più anche col sorriso anche col sorriso sì infatti è stato bellissimo che la banda Bassotti sostanzialmente è stata entusiasta di venire a suonare a Talzano per ricordare i compagni che non ci sono più